A Scordia, grosso centro agricolo industriale del Calatino, la popolazione si mobilita e scende in piazza per protestare contro l'elevata pressione fiscale, alla quale stanno andando incontro operatori economici e cittadini. L'aumento del 100% della Tari, la tassa su rifiuti, non è stata gradita dai contribuenti. Noi lavoriamo nove mesi l'anno per pagare i privilegi di questi politici che non stanno dando nessuna risposta concreta a quello che potrebbe essere realmente la ripartenza dell'economia. Non si parla di abbassamento delle tasse, si parla solo di pagare le tasse. Un piccolo operatore commerciale di Agruno, il territorio del Calatino da tanti anni noi segnaliamo che è in declino economico, sociale e politico. L'ho segnalato nelle sedi opportune i vari deputati europarlamentari, nazionali e regionali, ma non sono stati sensibili a questo allarme dato di chi lavora, di chi paga le tasse, di che la mattina si alza alle 4 di mattina per sbarcare il runario e noi siamo sempre dei precari. Un corteo al quale hanno aderito commercianti, artigiani, studenti, operatori e produttori agricoli si è mosso da Piazza della Colonna sino a giungere al municipio. Non ci sentiamo rappresentati dal contratto con Calat SRR in quanto abbiamo fatto presente in varie discussioni che 2.300.000 euro presentati da Calat Ambiente che non ci dà nessun servizio, non era una cifra accettabile. Dove i supermercati hanno aperto la busta della comandata e hanno letto 25.000 euro a pagare e domani saranno costrette a chiudere. Oggi è partita una battaglia che pensavamo potesse essere circoscritta a 400 commercianti e invece si è estesa fino al cuore della società. Chiediamo a questa amministrazione il blocco delle cartelle di pagamento rispetto ad un sistema fiscale che non ci permette più di onorare i pagamenti dei tributi. Sarà cineschi di esercizi abbassate lungo il corso Vittorio Emanuele per dire basta all'inaspiramento fiscale, ritenuto dai più iniquo rispetto ai servizi erogati ed offerti dalla società d'ambito Calat Ambiente di Caltagirone. Sono disperata gli agricoltori a Grunicole perché l'arancio li vogliono comprare, il signore commerciante ha 20.000 euro al chilo. Gli studenti uniti sul corteo nel corso della manifestazione hanno inscenato cori e slogan contro la mafia e non solo. La mafia è una montagna di merda, la mafia è una montagna di merda, i rossini italiani è complice, i rossini italiani è complice, via via la mafia è la scordia, via via la mafia è la scordia. Sono state all'incirca 700 le persone che hanno gridato basta Calat Ambiente per una bollettazione che per commercianti e operatori economici raggiunge cifre esorbitanti. i studenti, anziani e anche donne si sono uniti al corteo dei manifestanti. Non ce la facciamo più, cosa chiediamo? Di abbassare tutto, togliere tutte le tasse in eccesso che ci sono, che è un abuso. E poi queste tasse che ci mettono non si può lavorare più, questa è la verità e quindi siamo scesi per fare questa... speriamo che servia a qualche cosa. Scordia, insomma, si è mobilitata con una manifestazione composta e civile che ha dimostrato solo la rabbia dei contribuenti al sistema politico che partendo dai comuni, passando per ex province, regione, sin aggiungere al governo centrale, denota le reazioni della gente comune alla piramide istituzionale. Ci siamo accorti che i ladri e gli avversori sono al governo, è vero, e la gente paga le sofferenze, chiude, perde la casa, perde tutto, si suicidano, è una vergogna veramente. Quindi l'organizzazione a delinquere è al governo, ma ci siamo accorti che è al governo sia nei comuni, nelle regioni, nelle province e a carattere nazionale. Quindi i veri avversori non è la gente che non riesce a pagare, quello non è un avversore, è un povero Cristo che è tattassato, il vero avversore è chi sta al governo e anche ladro. Grazie a tutti.